Aspetta, aspetta, facciamo un passo indietro, buoni, 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 buoni. I italiani sono memorie per il calcio italiano, no? Beh, assolutamente sì, credo che Adriano rappresenti in assoluto il migliore dirigente probabilmente presente nel scenario italiano ed è assolutamente autentica la sua carica che ha e quindi credo che sia assolutamente un esempio da seguire per i valori che ha rappresentato, che rappresenta e è un esempio per tutti noi. Ha detto che sarà a Istanbul per tifare Inter, ha detto perché devono vincere le squadre italiane. Mi si è arrivato sentito in questa fase? Sì, con lui ho un rapporto di consolidata amicizia, stima, quindi il fatto che venga a Istanbul è un fatto che mi riempi di orgoglio, di piacere perché viceversa io sono stato a tifare per lui e quindi tante occasioni, quindi in questo caso mi fa piacere che tifi per me. Da Gravina a Galliani ho già detto che è un giornale importante per il calcio italiano perché si è chiusa la vicenda Juven, e come la vede? È una situazione nella quale non voglio addentrarmi perché mi pare che sia abbastanza chiaro ed evidente. È evidente quello che è definito oggi, quindi una fase in cui si chiude e vediamo avanti con molto ottimismo. Giusto così? Non so. Via dall'ingresso, signore, per favore.